I cristiani dovrebbero sempre fare discernimento nella propria vita analizzando quale sia la radice delle cose. Lo ha sottolineato Papa Francesco celebrando la messa a Santa Marta. Invidie, calugne e tranelli trovano la propria origine nel maligno che paziente aspetta e si ripropone nella vita delle persone, magari con un'altra veste. Di cui l'invito del pontefice a essere sempre vigili. Tranquillizzare la coscienza. Anestetizzare la coscienza. E questo è un male grande. Quando il cattivo spirito riesce a anestetizzare la coscienza, si può parlare di una vera e la vittoria di Lui diventa il padrone di quella coscienza. Questo accade dappertutto. Sì, ma tutti, tutti abbiamo problemi, tutti siamo pecatori, tutti... E nel tutti c'è il nessuno. Tutti, ma io no. E così si vive questa mondanità che è figlia del cattivo spirito.